Che emozioni vedremo uscire dalla borsa di Mary Poppins? Dalla borsa di Mary Poppins vedremo uscire tantissime emozioni e tantissima magia e credo che la magia più grande che Mary Poppins faccia sia quella di riallacciare i fili all'interno della famiglia Banks. Ciao Dora, come stavo salutando? Quindi la cosa più bella a cui assisteremo sarà la trasformazione di questa mamma e di questo papà e dei loro bambini che si amano follemente ma non riescono a comunicare tra loro e durante lo spettacolo si riuniscono, quindi iniziano divisi, separati, guardando in direzioni diverse e alla fine dello spettacolo invece li ritroviamo uniti tutti insieme a puntare nella stessa direzione. Questo è quello che vogliamo trasmettere. Poi ovviamente ci sarà tutto ciò che fa parte di Mary Poppins, quindi la magia, il colore, la musica, quel pizzico di mistero, quel pizzico anche di paura, dell'ignoto. Ci sarà tutto quanto. Quindi il motivo principale, imprescindibile per andare a vedere Mary Poppins dando appuntamento appunto alla Prima Teatro Nazionale qual è? Il motivo imprescindibile per andare a vedere Mary Poppins è che fa sognare con ogni aspetto di ciò che rappresenta, con ogni nota e con ogni scena dello spettacolo. Ci sono delle immagini che non hanno quasi bisogno di parole e è una cosa veramente rara e speciale da trovare in uno spettacolo. Quindi vi prego venite a vedere questo spettacolo e regalatevi una serata indimenticabile. Dal 13 febbraio ci trovate al Teatro Nazionale. Evviva!